Allora, molte grazie, grazie per la presentazione, grazie a tutti voi per essere presenti. Parliamo di moda, confesso, non sapevo che Vanni Codelupi avete fatto riferimento a Zimmer, mi fa molto piacere, perché appunto riprenderemo un po' più avanti nel mio discorso, anche un riferimento ad uno che rimane un grandissimo autore per noi sociologi, un autore pieno di stimoli. Comunque, parliamo di moda, in questo festival dedicato alle cose vogliamo parlare di cose alla moda, è il tema appunto che compare nel mio titolo, è il tema che vorrei approfondire qui oggi, e la prima domanda, la domanda immediata che ci facciamo è quali sono le cose alla moda? Di cosa si tratta? Chi riguarda le cose alla moda? Chi è che è coinvolto dalla moda, dalle sue cose, dalle sue fenomeni? E questi interrogativi veramente di base, fondamentali, ci portano già ad incontrare il primo fondamentale fraintendimento che spesso tendiamo a incorrere quando parliamo della moda. La moda, come vedremo, è un tema molto complesso, molto articolato, un tema che coinvolge delle questioni teoriche estremamente delicate ed estremamente raffinate, per cui a mio parere è stata una scelta degli organizzatori includere il tema della moda nelle feste della filosofia, ma io la trovo una scelta molto azzeccata, molto indovinata, perché come vedremo la moda è un tema teoricamente, filosoficamente estremamente complesso. Però questo non è quello che di solito pensiamo. Il primo fraintendimento rispetto al tema della moda è che noi tendiamo a ritenere la moda un tema marginale, un tema tutto sommato abbastanza secondario. Riteniamo intanto che la moda riguardi solo specifici oggetti, le cose alla moda. Innanzitutto, nella nostra società vediamo, innanzitutto la prima cosa a cui pensiamo quando pensiamo alla moda è l'abbigliamento, l'abbigliamento alle scarpe, pochi oggetti che seguono più di altri trend della moda. Un'eccezione, come vedremo, molto riduttiva. La moda è molto più estesa di questo ed è nata come fenomeno molto più esteso. Quindi noi tendiamo a ritenere che la moda riguardi solo specifici oggetti e solo poche persone, solo le persone che si interessano alla moda, solo le persone che seguono la moda in modo più o meno pedisseguo. E anche questo, come vedremo, è sbagliato. L'idea che la moda riguarda alcuni, mentre altri possono non averci a che fare. La moda non riguarda quelli che non si interessano specificamente della moda. Perché questo implicerebbe un altro aspetto, che ci sono persone che non hanno a che fare con la moda e oggetti che non c'entrano. Ecco questo è il primo fraintendimento che dovremmo eliminare. Non è vero. Non è affatto così. E questo adesso nella nostra società ci pensiamo poco, ma quando è nata la moda, perché la moda, come vedremo, non c'è sempre stata. Questo aspetto è quello che ha attirato grandissima attenzione ed è stato studiato con moltissima enfasi e anche con molta preoccupazione, come vedremo. Quello che rende la moda un oggetto di grande interesse filosofico, come dicevo all'inizio, e anche un tema molto enigmatico, un tema veramente misterioso, è proprio quello che è emerso in modo drammatico, in modo preoccupante nel corso del XVII secolo, cioè del 1600. Si è visto in quel periodo che la moda non è limitata a pochi specifici oggetti, ma riguarda ogni cosa e la moda riguarda tutti. Per cui la prima risposta alla nostra domanda è che le cose alla moda sono tutte le cose e le persone coinvolte dalla moda siamo tutti noi, che lo vogliamo o meno, che ne siamo consapevoli o meno. I motivi per cui la moda oggi, diciamo qualche secolo dopo la sua comparsa, viene marginalizzata, viene quasi neutralizzata nel dibattito collettivo, sono motivi a cui dovremmo studiare anche questi oggetti di grande interesse, più avanti ne diremo qualcosa. La moda comunque, nell'accezione che vogliamo studiare qui, è un fenomeno estesissimo e inquietante. La moda è, come diceva Mallarmé, un po' dopo la sua nascita, insomma, però un altro autore che ha pensato intorno alla moda, è la dea delle apparenze, una misteriosa divinità figlia di Saturno e del cambiamento, che ci rende tutti, come diceva la Bruyere, un autore che incontreremo spesso in questo discorso sulla moda, un autore che nel 600 ha scritto delle cose veramente illuminanti, per noi anche veramente curiose a proposito della moda. La moda appunto è questa divinità figlia del cambiamento che ci rende tutti fogli e instabili e che segnala, in un modo che in quel periodo veniva studiato con grandissimo interesse, il fascino e gli enigmi della società moderna. La moda, di fatto ci insegna molte cose sulla società moderna, come diceva anche Cerullo nell'introduzione, sull'imperscrutabilità, sul mistero, sul fascino di questa forma di società che conoscevamo già da qualche secolo, ma che ancora non abbiamo capito fino in fondo. E lo fa in un modo, e questa è la specificità della moda, apparentemente frivolo. La moda ci sembra una cosa da poco. E notiamo, proprio perché la moda ci appare così frivola, come vedremo è particolarmente efficace. È un vecchio meccanismo molto noto. Non ci badiamo, pensiamo che sia una cosa da poco, ci esponiamo alla moda senza difese, senza particolari preoccupazioni e la moda si insinua in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Non è detto che sia un male, è semplicemente un fenomeno di cui è interessante rendersi conto. Quindi, le cose, cosa ci mostra la moda a proposito delle cose? Intanto che il nostro rapporto con le cose, facendo riferimento proprio al tema del nostro festival, è più complesso di quello che sembra. Questo è uno dei primi aspetti che dobbiamo considerare trattando della moda. infatti la moda non tratta solo quella che in filosofia si chiama, come vedete nella slide, la dimensione materiale. Le cose hanno evidentemente una dimensione materiale. Quella che viene discussa anche nella maggior parte delle conferenze anche di questo festival. Diciamo la disputa tra ontologia e costruttivismo. Le famose questioni su, ad esempio, che cosa sono effettivamente le cose. Le cose là fuori ci sono davvero. Le cose sono mie costruzioni dovute alle mie interpretazioni, il mio modo di rapportarmi col mondo o sono dei dati indipendenti che sono lì fuori, al di là del fatto che li guardi. Questioni, appunto, che qui non approfondiamo, di cui si dice molto nel corso di questo festival, ma che riguardano appunto questa dimensione materiale, come sono fatte le cose di per sé. La moda riguarda questo, ma riguarda soprattutto gli intrecci fra questa dimensione e almeno altre due dimensioni, altrettanto importanti. La dimensione materiale, appunto, e poi la dimensione sociale, intrecciata strettamente con quella materiale, che ci pone delle altre domande riguardo il rapporto con gli altri. Domande come se le cose, le cose come ci sono per me, ci sono anche per gli altri. Le cose per gli altri ci sono allo stesso modo? Sono sola nell'osservare il mondo e nel rapportarmi con le cose? Oppure il modo in cui il mondo mi appare dipende anche da quello che vedono gli altri e da come lo vedono gli altri? Questo intreccio fra, appunto, la materialità, l'oggettività delle cose e il rapporto con le altre persone che si rapportano con gli stessi oggetti. E poi un'altra dimensione, la dimensione temporale. Le cose restano sempre le stesse o cambiano col tempo? Le cose forse cambiano con il scorrere del tempo e forse anche con la mia specifica temporalità, col mio rapporto col passato e col futuro. Noi lo sappiamo, sappiamo che le cose, qualsiasi se siano, sul piano materiale, sul piano sociale, ci appaiono in un modo oggi che è diverso da quello in cui ci apparivano ieri e sappiamo che domani ci appariranno in un modo ancora diverso. E lo sappiamo già adesso. Per cui, come vedremo, la moda ha molto a che fare con questa dimensione temporale. Però appunto la moda ci segnala che il rapporto con le cose va articolato almeno su queste tre dimensioni si intrecciano di continuo. L'irruzione della moda nella società moderna, su cui torneremo appunto nel 600, ha il merito, o vogliamo anche la colpa, di aver mostrato proprio questa complessità di rimandi, questa complessità di intrecci e tutti i problemi che ne risultano. Appunto in tutte le cose, non solo nell'abbigliamento o in pochi specifici oggetti. Torniamo comunque alla moda della sua storia. L'ho annunciato, non c'è sempre stata, vediamo di cosa si tratta. Fino all'inizio del 600 la moda non c'era. Questo può sembrare sorprendente, volevo dire qualcosa a questo proposito, ma non c'era nemmeno il termine per la moda, non c'era un'espressione, non c'era una parola che indicasse quello che noi oggi intendiamo come moda. La moda nasce e non sorprenderà in Francia, il tema è francese, femminile, la mode, nasce in quel periodo. Solo verso l'inizio del 600 si distingue da un termine che c'era già prima, dal maschile le mode, che voleva dire il modo. Il modo c'era sempre stato, la moda no. In quel periodo si comincia a parlare di moda al femminile come un oggetto specifico, come una particolare categoria che va analizzata, che va studiata. Mentre prima c'era il modo, e il modo ha tutta un'altra origine, ha a che fare con la teoria delle modalità. E non è un caso che la moda nasca da questo, come vedremo. Le modalità sono tutti dei concetti filosofici con una lunghissima tradizione, che trattano di categorie come il possibile, il necessario e il transitorio. E la moda ha a che fare con queste cose. Comunque, la moda è qualcosa di leggermente diverso, che nasce in quel periodo, poco dopo nasce il termine in inglese fashion, e nascono anche le categorie per la moda, nel tedesco, in italiano, nelle varie lingue europee. Insieme al termine, insieme al fenomeno, nasce anche un dibattito accesissimo, fra gli studiosi, fra i ricercatori, fra i filosofi, appunto, sulle interpretazioni e sulle conseguenze della moda. Un dibattito ben diverso dalla leggerezza, dalla sufficienza con cui oggi consideriamo la moda. Però la moda, in fondo, dicevamo, è qualcosa di frivolo, qualcosa di marginale. Qualcosa che interessa si dice soprattutto le donne, e in questa accezione non è affatto un complimento. Così c'è un tema da donne, non è un complimento, insomma. La moda risente di questa connotazione, non è una lode. E poi, dicevamo, per noi la moda riguarda soprattutto i vestiti. Nel Seicento, invece, le cose erano molto diverse. Le persone alla moda, le persone che si occupavano della moda, erano soprattutto uomini. Anche le donne si mettevano, se pensate, questi assurdi vestiti di quel periodo. Ma l'interesse per la moda riguardava soprattutto il fatto che gli uomini seguivano la moda, per cui non solo le donne. E la moda, appunto, non coinvolgeva soprattutto l'abbigliamento. Anche l'abbigliamento, ma appunto si vedeva, riguardava ogni possibile oggetto. E per quello sembrava particolarmente preoccupante. La Bruyère, di cui ho già parlato, che ha appunto studiato molto questo fenomeno, lamentava che nel XVII secolo, quando appunto si diffonde la moda, di colpo, di colpo, prima non era così e prima il fenomeno non c'era. Nel giro di pochi decenni, a quanto pare, tutto diventa regolato dalla moda. Appunto, i vestiti, abbiamo visto, ma anche e soprattutto il gusto, il modo di vivere, lo stile nel rapportarsi con gli altri, la salute. Ci sono mode nel tipo di cure che si fanno, le terme, il modo di intendere il rapporto col proprio corpo, ma soprattutto appunto la coscienza. Tutte le possibili cose, e torniamo al nostro tema. La moda appunto dettava le fogge degli abiti, tipo di parrucche da indossare, quello che si metteva in quel periodo, ma anche, ad esempio, cosa mangiare, che medici usare, quali sentimenti provare, essere sentimentali, essere un po' patetici, essere razionali. Anche questo si vedeva, questo atteggiamento, come governato dalla moda. Gli orientamenti filosofici, cosa che, come sappiamo, non è poi affatto sparita. Ci sono mode filosofiche, mode teoriche, come in tutti gli aspetti della nostra vita. Fino addirittura, e quella sembrava la cosa più scandalosa, l'atteggiamento nei confronti della religione. Si diceva allora, diceva la Bruyere, ci sono persone devote e persone libertine, persone che seguono il termine della religione e quelli che hanno un atteggiamento un po' più autonomo. E anche questa scelta, se essere devoti o se essere libertini, a quanto pare nel giro di pochi decenni diventa governato dalla moda, da questo stranissimo fenomeno prima sconosciuto. Quindi il tema era serissimo. Era serissimo perché era incomprensibile, era esteso a tutti i possibili oggetti ed era estremamente preoccupante. Non si capiva cosa stava succedendo. Infatti di moda in quel periodo si sono occupati tutti i migliori ingegni, i migliori pensatori del secolo, appunto la Bruyere, Pascal, Baldassar-Gracian, la Rochefoucault e anche nei secoli dopo Kant, Hegel. I grandi filosofi si sono occupati di questo tema, che poi negli ultimi tempi appunto è stato trattato con altra rilevanza. Ma perché appunto? Perché è così importante? Cos'è che è emerso nel XVII-XVIII secolo per suscitare tutto questo interesse e come vedremo tanto allarme? La moda preoccupa moltissimo in quel periodo. Ecco, non certo l'attenzione per i vestiti. Quando io dico la moda è nata nel 600, non dico la gente nel 600 comincia a badare a quello che si mette. Perché ovvio l'attenzione per i vestiti c'è sempre stata. E le fonti sono enormi, insomma. La frase, l'abito fa l'uomo, non ancora il monico, ma fa l'uomo, risale a Quintiliano, per cui molto molto prima. Quindi non solo si sapeva che la gente bada a quello che si mette, ma si sapeva anche che l'abbigliamento cambia. Gli abiti, il modo di vestirsi e presentarsi con gli altri cambia col tempo. Tertuliano dice, gli abiti cambiano come cambiano tutte le cose del mondo, per cui è inevitabile che anche l'abbigliamento ne risenta. Non solo. Si sa anche che il nostro modo di cambiare l'abbigliamento dipende dal contesto in cui ci troviamo. Ad esempio, Badassare Castiglione, che come sapete è stato un po' un precursore, non ancora della modernità, ma della vita di corte, della riflessione sul modo di rapportarsi con gli altri, tratta pure appunto di questo tipo di fenomeno, della necessità di seguire nel modo di presentarsi, nel modo di vestire gli usi, le circostanze. Perché, come dice lui, in un posto diverso, in un tempo diverso, le cose, e torniamo al nostro tema, ci sembrano più o meno comode o leggiadre. E dobbiamo adattarci alle circostanze, ai luoghi. È inutile rimanere sempre fissi sulle nostre abitudini. Per cui, l'abbigliamento conta, l'abbigliamento cambia, e l'abbigliamento cambia a seconda delle circostanze. Questo era ben noto da secoli, ma tutto questo non è ancora la moda. La moda, in quel periodo, appunto, in modo rivoluzionario, introduce un modo completamente diverso di considerare i criteri con cui giudichiamo gli abiti e le cose. Anzi, cambia i criteri stessi con cui ci rapportiamo col mondo. Ecco a questo che si riferisce al titolo del mio intervento, in e out. Questa è la novità della moda. Perché la novità è il fatto che, dicevo, la moda cambia i criteri con cui ci rapportiamo con le cose, perché i criteri della moda non sono il bello e il brutto, l'opportuno, cosa che è comodo, conveniente, non conveniente, giusto o sbagliato, come in tutti i secoli precedenti. La moda, come sappiamo, non è bella, non è neanche comoda e non è neanche conveniente. Chi segue questi criteri, chi si veste comodo o chi si veste in modo conveniente, non segue la moda. La moda riguarda qualcos'altro. La moda è in oppure è out. Anzi, è in, una cosa è in, la seguiamo, sapendo benissimo che presto sarà out. Ma finché è di moda, vale lo stesso come orientamento. Una cosa è di moda, sappiamo che passerà di moda, ma finché è di moda, finché vale, ci piace davvero. Ci piace e la seguiamo. Cioè, il senso di ciò che è in rimanda inevitabilmente al lato out e non ha un lato significato. Noi sappiamo che le cose alla moda hanno preso il posto di altre cose che adesso sono uscite di moda. Ma sappiamo anche, e questo è l'aspetto che era più inquietante in quel periodo, sappiamo anche che quello che ora è in diventerà out quando altre cose si apprassaranno in. E questo accadrà molto presto, già domani. Chanel diceva che la moda è fatta per passare di moda. Questo appunto è il senso della moda. Il senso della moda è la transitorietà, il passaggio, il passaggio da in out. E questo è il cambiamento fondamentale, quello che ha colpito e preoccupato enormemente gli osservatori del XVII secolo. Prima non era così. Gli autori, appunto Pascal, Labrouillère, così, si pongono delle domande fondamentali sulla società e sul mondo. Si chiedono come sono cambiati il mondo e la società se le nostre scelte, le nostre preferenze, anche questioni fondamentali che riguardano la nostra coscienza, la religione, i nostri orientamenti rispetto al mondo, sono guidate da qualcosa che non è stabile, ma da qualcosa che cambia e che ha proprio come fondamento la pura transitorietà, cioè il passaggio da in out, in cui anzi, come vediamo costantemente nella nostra società, la stessa transitorietà diventa un valore. La moda passa, e noi lo sappiamo, ma vale lo stesso e vale proprio per questo. Una moda che rimanesse sempre fissa, non ci piacerebbe, la moda deve passare. Il fascino della moda si basa proprio su questo senso di transitorietà. Ecco, prima, nelle società cosiddette tradizionali, o quelle che Gabrielle Tard, un altro studioso che ha parlato di moda, chiama le società l'età del costume, contrapposte all'età della moda come la nostra. Ecco, nelle società tradizionali le cose erano molto diverse. Una cosa piaceva perché era, o si pensava che fosse, bella, giusta, apprezzabile. Un vestito, ma anche, appunto, soprattutto gli orientamenti morali o orientamenti religiosi, venivano seguiti perché pensavano siamo giusti e non si cambiava parere da un anno all'altro. Seguivano uno stile o una teoria perché si era convinti che fossero quelli corretti e che lo fossero, è questo aspetto fondamentale, oggi come ieri e come domani. Se una cosa vale, deve valere in tutti i momenti e deve valere per tutti. Chi non è d'accordo si sbaglia. Oppure, se una persona particolarmente illuminata ammette che è possibile che si sbagli lui stesso, magari mi sbaglio anch'io. Ma allora un altro, quello che ha ragione, mi avrebbe convinto. Il criterio è unico. Poi ci si può sbagliare, ma in qualche modo ci si deve poter mettere d'accordo. Insomma, i criteri, se erano validi, se pensava, dovevano essere univoci, stabili e uguali per tutti. E le cose erano quelle che erano. Rimanevano identiche nel passaggio del tempo. Un altro certo poteva vedere diversamente perché riguardava da un'altra prospettiva, ad esempio da un altro punto nello spazio, un altro momento nel tempo. Ma quest'altro osservatore che vedeva le stesse cose da un altro punto di vista, appunto, osservava le stesse cose. E se non si sbagliava e se non era in cattiva fede, doveva in qualche modo fare le nostre stesse osservazioni. Le varie osservazioni si sarebbero prima o poi coordinate. Insomma, il mondo si vedeva, era complesso, pieno di prospettive differenti, magari imperscrutabile, perché nessuno di noi conosceva il mondo fino in fondo. Questa conoscenza, in questo tipo di società, era ovviamente riservata a una coscienza superiore, riservata a Dio. Però questo mondo imperscrutabile, con tante prospettive diverse, per noi mai dominabile fino in fondo, era comunque un mondo unico, un mondo stabile, un mondo ordinato, che rimaneva quello che era. Ecco, con la moda cambia tutto. Con la moda questo ordine salta radicalmente. Si segue una tendenza, si apprezzano determinate cose, appunto, non perché sono belle, o perché sono giuste, o perché sono moralmente corrette, per qualche criterio così pieno di contenuti, ma perché sono in, sapendo benissimo che non ci piaceva l'anno scorso e non ci piaceva l'anno prossimo. L'anno prossimo saranno out. fatto. E sapendo anche, e questo è anche un importantissimo suppostamento di prospettiva, che ci piacciono perché sono in, perché anche gli altri fanno lo stesso. Nel riferirci alla moda ci riferiamo agli altri. E questo è un momento fondamentale. Comunque non ha un criterio, una vera convinzione di fondo, la fiducia di seguire la moda. Nessuno dice, nessuno pensa, ad esempio, che, non so, i pantaloni a vita bassa, o i tagli di capelli asimmetrici che vanno in moda quest'anno, siano belli. Belli in modo assoluto, in qualche modo. Che siano più belli di altri tagli di capelli o di altre forme di pantaloni, che per oggi non ci metteremo mai neanche sotto tortura. Perché, appunto, le cose alla moda sappiamo che non sono belle in qualche senso assoluto, però ci piacciono. Ci piacciono davvero finché sono alla moda. Poi torniamo sul tema delle cose. La moda incite davvero sul nostro rapporto con le cose. Noi vediamo le cose con gli occhiali della moda. Quello che è di moda, che sappiamo che cambia, che sappiamo che passa, finché di moda ci piace davvero. Ci sembra in qualche modo veramente apprezzabile. E questo, appunto, sottolineo di nuovo questo aspetto senza nessun criterio. Semplicemente sulla base di questa circostanza misteriosa e un po' evanescente, che queste cose sono in, sono appunto di moda. Torniamo al Seicento. Per pensatori come la Bruiere Pascal e tutti i pensatori di quegli uomini di questo periodo. Questo atteggiamento era assolutamente uno scandalo. Loro vedevano giustamente che l'orientamento alla moda, questa nuova tendenza per cui si seguono le cose alla moda, segnava una cesura nella società. Segnava qualcosa che separava nettamente la società moderna da tutte le società precedenti. E segnava un cambiamento fondamentale nel rapporto con il mondo, appunto con le cose. Tornando sempre a sottolineare il nostro tema. E per loro non era assolutamente una cosa buona. Era un segno di follia, un segno di ragionevolezza. La Bruiere dice, la moda non è un divertimento, è una passione. E come tutte le passioni violenti, irresistibili, razionali, non possiamo governarla. È pericolosa. E per lui è indice di una decadenza morale. Non bisogna essere preda di queste passioni così irrazionali, così incontrollabili. Come si può giustificare? Dicevano questi autori che anche nelle cose fondamentali, appunto la religione, la morale, le convinzioni più profonde sulla vita e sul mondo, ci si faccia guidare da una cosa così frivola, così incostante, così mutevole come la moda. Questo vuol dire che la società appunto sta cambiando, che si ha a che fare con un nuovo tipo di uomini. Degli uomini, cito proprio dalla Bruiere, inquieti, leggeri, incostanti, che ad esempio si credono devoti, ma per tivoti diventano libertini. E poi tornano devoti quando cambia la motta di nuovo, le specie di bande ruole governate da qualcosa che nessuno veramente sa che radici abbia. Perché la moda, dicono sempre questi pensatori, mi riferisco proprio ai testi del periodo, non è come la virtù. La virtù rimane sempre uguale a se stessa. Ciò che è buono, che è bello, così, è sempre uguale per tutti i tempi e per tutte le circostanze. La moda invece cambia di continuo. Perché non segue un criterio come la qualità, come la morale, come appunto dei criteri legati ai contenuti, ma un altro criterio, che questo dovremmo indagare. La moda segue un criterio molto differente da quelli della tradizione, un criterio molto più mobile, molto più complesso. Un criterio che non a caso è diventato, e qui ci soffermeremo, l'etichetta della società moderna. La moda che nasce proprio come fenomeno quando cominciamo a vedere l'inizio della modernità, sottolinea proprio questo aspetto che è unico, senza precedenti proprio dalla società moderna, e quindi per gli uomini di quel tempo era assolutamente incomprensibile. Il criterio della moda è, come noi sappiamo molto bene, innanzitutto la novità. La moda non deve essere bella, l'abbiamo visto, ma deve essere nuova, deve essere sempre nuova, cioè deve essere diversa da quello che c'era prima, e questo produce uno stranissimo effetto, perché la moda che è sempre nuova fa diventare vecchio quello che c'era prima. Le cose diventano vecchie solo quando c'è qualcosa di nuovo, è la novità che fa invecchiare le cose. Prima, quello che c'era prima diventa vecchio solo quando arriva nuovo, prima non era né nuovo né vecchio, era semplicemente quello che era. Prima che io mi cogliassi e comprassi il maglione nuovo, il maglione che adesso è diventato vecchio, non era il maglione vecchio, era, non so, il maglione verde, il maglione AV, il maglione che mi ha legato mia sorella, era il maglione. Adesso è diventato il maglione vecchio. Prima che esca un nuovo modello di automobile, quello precedente non è il modello vecchio, è il modello che è, XY come si chiamano queste macchine che non lo so, insomma. Poi esce il modello nuovo e quell'auto diventa automaticamente, in quel momento, senza essere cambiato in nessun modo, diventa il modello vecchio. Cioè il nuovo ha questa stranissima caratteristica. Il nuovo fa invecchiare le cose, il nuovo fa invecchiare il mondo e la moda che segue il nuovo impone al mondo questo processo. La moda fa invecchiare il mondo e fa invecchiare anche se stessa. Mette in moto un meccanismo di costante rinnovamento e di costante invecchiamento, poi i due lati vengono sempre insieme. Perché? Perché la moda appunto deve essere sempre nuova. Produce di continuo cose vecchie e questo è anche un aspetto enigmatico. La moda è costretta a cambiare sempre anche se stessa. Anche la moda invecchia e deve cambiare. La stessa moda nel momento in cui si impone, nel momento in cui ha successo, ormai è diventata familiare, cioè non è più nuova, quindi deve essere superata. Infatti, come sappiamo benissimo, i veri intenditori l'hanno già abbandonata, stanno seguendo una nuova tendenza. La moda ha anche questa strana caratteristica. Nel momento del suo massimo successo, nel momento in cui la moda veramente si è imposta a tutti, è già passata. E si sta già di nuovo da qualche parte, senza che ce la diamo conto, imponendo qualcosa di nuovo, qualcosa di differente. Noi ci siamo abituati, per cui non ci badiamo tanto, ma se ci pensiamo un po', questa ossessione per la novità, questa costante, affannosa ricerca del nuovo che invecchia a se stesso, deve portarci a produrre sempre nuove novità, è un atteggiamento stranissimo. E infatti, torniamo al nostro confronto col 600, agli uomini del 600 appariva incomprensibile. Incomprensibile e inspiegabile. Avevano l'impressione, come si legge in tutti i loro scritti, che la società stesse andando per una deriva così veramente inspiegabile. Perché in tutte le società precedenti, ad esempio nel mondo in cui erano vissuti questi autori del 600, il nuovo non era ritenuto qualcosa da ricercare, non era valorizzato. Nessuno pensava di andare a cercare della novità. Quello che contava, quello che valeva, non era certo il nuovo. Perché il nuovo, se ci pensiamo, è veramente minaccioso. Una cosa nuova è appena arrivata, non la conosciamo, non è stata verificata, non è garantita, non l'abbiamo testata. È appunto sconosciuta e ci presenta sempre le minacce di tutto quello che non conosciamo. Le società tradizionali non cercavano il nuovo. Cercavano una cosa molto diversa. Cercavano quello che era stato messo alla prova, che era stato consolidato dall'esperienza, dalla tradizione, dai testi sacri, dall'autorità che si sono appunto imposte nel corso dei secoli. Ciò che si conosceva, a cui ci si poteva affidare. Cioè il vecchio. Tutte le società tradizionali ricercavano come valore, come riferimento il vecchio, non certo il nuovo. Perché il nuovo quando compariva, qui parliamo di tutto il periodo fino appunto al 1600, il vecchio quando compare qualcosa di nuovo è in primo luogo un disturbo, è un fastidio. Il nuovo ci costringe a rivedere le forme e i criteri consolidati, dobbiamo fare diversamente da come siamo abituati, dobbiamo cambiare i modi di rapportarci con le cose. Costa fatica, produce incertezza. Per cui in tutte queste società, il nuovo veniva evitato. Si evitava il più possibile, che non è poi molto, perché il nuovo non si può evitare del tutto. Lo signorava finché si poteva. Lo stigmatizzava come qualcosa di pericoloso, di minaccioso, di difficile. Oppure, se proprio non si poteva fare altro, lo si riconduceva a cose già note. Questo atteggiamento perché si diceva, beh, sembra nuovo, ma in realtà è una variante di qualcosa che già conosciamo e di cui magari ci siamo dimenticati. Per cui anche quando si accettava il nuovo, in qualche modo si riconosceva di non dover cambiare tutto, insomma, lo si cercava di incapsulare in una forma meno pericolosa, almeno dirompente. Perché il nuovo ha una caratteristica effettivamente dirompente. E questo atteggiamento, per cui quello che si diceva che è il vecchio e non il nuovo, il nuovo si teme, è rimasto per moltissimo tempo. Anche Montaigne, e qui siamo già nella seconda metà del Cinquecento, per cui appena prima di diffondersi della moda, lo diceva esplicitamente, cito da Montaigne, a me non piace la novità, qualsiasi aspetto abbia. E poi, in ogni cosa, salvo soltanto nelle cattive, il mutamento è da temere. Cioè, io posso accettare il mutamento, la novità, il cambiamento, se mai nelle cose cattive, che tanto sono già cattive. Ma nelle cose buone, consolidate, in cui mi fido, il nuovo è una cosa da evitare di possibile. A me non piace la novità. Comunque, essa appaia. Ecco, qui siamo alla fine del Cinquecento. Nel Seicento cambia tutto. Improvvisamente, immaginate lo sconcerto degli uomini di quel periodo. Nel giro di pochi decenni, l'atteggiamento cambia completamente. E diventa quello che è rimasto dopo secoli il nostro atteggiamento, che anche questo richiede una certa spiegazione. Ora, nel Seicento, improvvisamente il nuovo piace. Il nuovo che veniva evitato, adesso piace. Piace e viene ricercato in tutti gli aspetti della vita. Un'impostazione radicalmente diversa, che diventa, come dicevo prima, proprio la caratteristica, la cifra distintiva della società moderna, la società in cui viviamo noi ancora adesso. Quella società moderna che si stava imponendo proprio in quel periodo. Infatti, non a caso, il termine tedesco, per dire moderno, è Neuzeit, che letteralmente vuol dire tempo nuovo o tempo del nuovo. L'età moderna è l'età del nuovo, è il tempo in cui si ricerca, si valorizza, si comincia ad apprezzare la novità. E questo distingue proprio la società moderna da tutte le società precedenti. E società precedenti che ora, in questo momento, solo in questo momento, diventano quelle che noi chiamiamo le società tradizionali. Cioè le società che accettano, che apprezzano, che perpetuano la tradizione. Adesso si fa diversamente. E anche qui è lo stesso meccanismo. Le società tradizionali diventano tradizionali quando veniva fuori una società moderna. Prima era semplicemente quello che c'era, quello che si è sempre fatto fino a questa stranezza del 600 per cui si ricerca il nuovo. Prima si ricercava la tradizione, per cui non veniva definita questo, era semplicemente il modo di stare al mondo. E così, con la modernità si comincia ad avere questo stranissimo, apparentemente inspiegabile atteggiamento. Uno scandalo. Uno scandalo il fatto che il nuovo piaccia. E uno scandalo ancora maggiore perché non solo il nuovo piace, ma piace in un modo pervasivo. Mi riferisco qui a Grenai, che è uno studioso anche con lui del 600, ha scritto un libro molto citato sulla moda, che lamenta proprio questo aspetto. dice, è una pazzia la nuoda. Perché non solo, lo cito in francese ma adesso lo dico in italiano, la cosa è incomprensibile, non è solo che il nuovo piace, ma che adesso all'improvviso si capisce che piace solo il nuovo. Solo quello che è nuovo in realtà ci piace, piace ai nostri occhi, insomma. Per cui la cosa misteriore non è solo che il nuovo piaccia, magari accanto ad altre cose, ma che il nuovo è diventato in qualche modo un criterio che è precedente e più fondamentale di tutti gli altri criteri. Ci piace solo il nuovo, ci piace innanzitutto qualcosa che come prima caratteristica deve avere la novità. Il nuovo è diventato un criterio per eccellenza in tutti gli ambiti, un criterio che viene prima degli altri contenuti, in tutti i settori della vita, nell'arte, nei media, anche in politica, pensiamo all'Italia di oggi, il valore della novità in politica e addirittura nella scienza. In tutti gli ambiti della nostra società prima si guarda se qualcosa è nuovo e poi si guarda cosa da dire, insomma. Una cosa piace innanzitutto se è nuova e poi si va a vedere se è fatta bene, se può interessare e così via. È come se il nuovo è su un filtro che ci consente di considerare tutti gli aspetti della vita. Se ci pensate, provate ancora una volta, penso sia l'ultima, mettersi nella prospettiva di persone che venivano da società diverse, come nel 600, questa sembrava un'assoluta pazzia. Perché appunto il nuovo, che criterio è questo nuovo che è diventato il criterio fondamentale nel rapporto con le cose? È un criterio non criterio, è un criterio vuoto, perché il nuovo non ci dice niente. Se ci pensate, se diciamo che è una cosa nuova, non sappiamo niente di questa cosa. Sappiamo solo che è diversa da quello che c'era prima, è diversa da tutto quello che c'è familiare, ma non che sia buona, che sia utile, che sia conveniente, che sia interessante, niente. Sappiamo solo che è nuova. E chi ci garantisce che il nuovo di per sé sia migliore da quello che c'era prima? Non lo sappiamo. In realtà, se pensate alla moda, non lo pensiamo nemmeno. Non pensiamo che una cosa nuova sia necessariamente migliore. Ciò nonostante è la caratteristica fondamentale. Nel caso della moda, il punto non è che una cosa sia buona, migliore o giusta. Il nuovo, in un certo senso, giustifica se stesso. Se una cosa è nuova, già di per sé va presa in considerazione. È chiaro che i riferimenti a molti aspetti della nostra società si potrebbero moltiplicare, ma rimaniamo alla moda. Ecco, la moda, che radicalizza questa ricerca del nuovo, mostra nel modo più chiaro che stranissima dinamica si è messa in moto. Perché la moda, appunto, l'abbiamo visto, non deve essere bella, ma deve essere diversa. Diversa da quello che c'era prima, quindi nuova, quindi deviante, quindi sempre tendenzialmente provocatoria. Quello che vediamo anche nell'abbigliamento, nella moda, nella vita di tutti i giorni. Le forme della moda diventano sempre più estreme. La moda è nuova, deve rinnovarsi di continuo, per cui cerchiamo sempre una nuova novità. Che però, per essere ancora nuova, deve essere sempre più radicale, sempre più sorprendente, perché le altre forme sono già state usate in precedenza. Per cui ricerchiamo sempre un nuovo più nuovo, finché alla fine l'atteggiamento al confronto della novità stessa si capovolge. Se tutti cercano sempre il nuovo, la ricerca della novità alla fine, pensateci, nella nostra società lo sperimentiamo di continuo, la ricerca della novità non è più sorprendente. Se tutti cercano il nuovo, non è più nuovo cercare il nuovo. La provocazione diventa prevedibile. La moda, nell'abbigliamento, lo mostra in modo evidente. Nessuna mistravagante, nessun tacco vertiginoso, nessuna nudità sfacciata, così appare adesso veramente provocatoria. Semmai il più provocatorio è un ostentato a normalità, come ad esempio gli abiti di Prada. È quasi più provocatorio non essere provocatorio, non essere deviante, ma è un meccanismo che ovviamente non si può ripetere. E questo vale in tutti gli ambiti. Nell'abbigliamento è più evidente, ma vale appunto in tutti gli ambiti in cui la moda opera, anche nella filosofia, nella politica e così via. La ricerca del nuovo deve confrontarsi con una specie di effetto di logoramento, un effetto di logoramento che produce la moda stessa. Ci si abitua alla novità. Per continuare a sorprendere, per continuare ad essere nuovi, bisogna passare in qualche modo ad un altro livello. Si ricerca una forma quasi di novità di secondo ordine, una forma di novità riflessiva, in cui non basta deviare da quello che è familiare, non basta fare qualcosa di nuovo, bisogna deviare in modo sempre diverso, bisogna deviare dalla stessa deviazione fino a in qualche modo riuscire a riprodurre lo stupore, la sorpresa di fronte alla novità. Non basta rinnovare, bisogna rinnovare in modo sempre nuovo. E qui il cerchio si chiude e la moda va a incontrare i suoi limiti, perché inevitabilmente a questo punto la ricerca del nuovo si ripiega su se stessa. Quando ci aspettiamo la devianza, quando la regola dice che devi sempre deviare, devi fare diversamente a quello che si è fatto in precedenza, devi essere originale, devi essere nuovo, chi devia, chi innova non fa altro che seguire la regola, non fa altro che fare quello che ci aspettiamo. Ormai anche nel campo della moda ci muoviamo in una società in cui deviare dalla devianza non è più deviante. Cambiando di continuo in fondo facciamo sempre la stessa cosa. E questo è uno degli enigmi con cui la moda ci confronta continuamente. Proviamo a tirare fila a proposito della moda. La moda, dicevamo, è comparsa con un fenomeno scandaloso, un fenomeno molto complesso che appunto irrompe la società tradizionale rivoluzionando tutti gli orientamenti e provocando grande allarme, grande sconcerto. La moda appunto segnala una tendenza che la nostra società si diffonde poi in tutti i settori, segnala la prevalenza dell'apparenza sulla sostanza, dell'opinione comune sull'autorità. L'opinione comune perché nella moda come sappiamo quello che conta è quello che piace agli altri, perché noi per seguire la moda vediamo cosa gli altri seguono, non l'autorità. Della transitorietà sulla stabilità. La moda annuncia un ordine sociale che è radicalmente differente da quello della tradizione e lo fa in questo modo incidendo sulle piccole scelte, le grandi scelte quotidiane, sul rapporto con tutti gli oggetti del mondo e con tutte le cose. Come fa a funzionare? Come può funzionare un fenomeno così strano? Come funziona la moda? E questo è l'ultimo passaggio che vorremmo fare trattando il nostro tema. Intanto la moda viene seguita non nonostante cambi, non è che dico segua la moda anche nonostante se cambi. La moda è eseguita proprio perché cambia. Un oggetto che rimane sempre uguale a se stesso non può essere una cosa alla moda, al massimo sarà un classico. Anche quando si recupera la moda del passato, il vintage come va di moda adesso, oppure lo stile degli anni 70, se ci pensate lo si fa sempre in un modo rinnovato. Per essere alla moda bisogna segnalare che non si è sempre vestiti così, cioè che sta seguendo alla moda. Ad esempio mia figlia che ha 15 anni si veste più o meno come vestivo io alla sua età, perché la moda è tornata a recuperare le forme degli anni in cui io avevo la sua età, insomma. Ma io non sarei alla moda se avessi continuato a vestirmi per decenni a vestirmi nello stesso modo, se avessi continuato a mettermi le stesse cose. La moda deve cambiare, la moda cambia sempre, noi lo sappiamo, ce lo possiamo aspettare, contiamo sul fatto che la moda cambi. E questo porta ancora una volta a un curioso paradosso, a una stranezza della moda. La moda ha fatto del cambiamento, di questo continuo mutamento, una specie di principio stabile. Ci possiamo contare. In questo mondo in cui tutto si trasforma di continuo, potremmo dire che l'unica cosa su cui possiamo contare, l'unica cosa che non cambia è proprio il cambiamento. Nell'età della moda, nei periodi come il nostro in cui la moda governa il rapporto con le cose, il cambiamento si potrebbe dire è l'unica stabilità che ci rimane. Una specie di istituzionalizzazione dell'effimero, una forma di Gilles Poveschi che ha studiato la moda proprio dal punto di vista di questa sua evanescenza, di questa transitorietà. Il cambiamento nella nostra società è diventato l'unica costante, l'unica cosa che rimane sempre la stessa. Ma come facciamo a riconoscere che cosa è di moda e cosa è passato di moda? E soprattutto dove vanno le tendenze della moda? Come facciamo a vedere dove si sta muovendo la moda? Ovviamente dobbiamo guardare gli altri. La moda è un fenomeno, lo dicevamo all'inizio, non basta dimensione materiale, non basta dimensione temporale, la moda è un fenomeno inerentemente sociale. Cioè nessuno ha la moda da solo. Per essere la moda bisogna osservare quello che fanno gli altri, quello che osservano gli altri in un modo complicato di rimando reciproci. Ognuno osserva quello che osservano gli altri, osserva se stesso, osservato dagli altri e così via. Per cui nella moda, diciamo quello che preoccupava ancora gli aspetti che preoccupavano i pensatori del Seicento, il riferimento agli altri si sostituisce al riferimento all'autorità. Gli altri in generale, non gli altri importanti, gli altri preparati insomma. E in questo modo la moda impone un modo completamente diverso di costruire dei modelli e di orientarsi a dei modelli. Nella moda infatti guardiamo quello che fanno gli altri, ma non possiamo semplicemente copiarli. La moda ha a che fare con l'imitazione, imitiamo dei modelli senz'altro nella moda, ma la moda realizza una forma molto particolare, molto curiosa di imitazione. Cioè non basta copiare dei modelli come una volta si imitavano i grandi autori della tradizione, gli autors della tradizione classica della retorica, Platone, Petrarca, Ciceroni, Virgilio, così. Si riproducevano le forme consolidate della tradizione. Nella moda la semplice riproduzione, l'imitazione dei modelli non basta copiare, non funziona per niente. Lo diceva già Balzac, siamo qui nell'Ottocento. Chi riproduce alla perfezione il modello, chi è perfettamente alla moda, diceva Balzac, appare una nullità. Uno che è perfettamente alla moda non è così, non realizza il modo migliore di seguire la moda. E qui mi richiama Simmel, Simmel appunto, grandissimo sociologo, che ha scritto un libro, un librino piccolo, ma tuttora fondamentale sulla moda circa un secolo fa, che ha studiato la moda proprio da questo punto di vista. Questo stranissimo fenomeno per cui nell'Orientaccia alla moda noi seguiamo dei modelli, ma lo facciamo non per fare la stessa cosa degli altri, ma per fare qualcosa di differente. Appunto, Simmel dice, nella moda si imita, non per essere uguali agli altri, ma per essere diversi dagli altri. La moda ci porta a una curiosissima forma di imitazione, che ci porta a fare tutte la stessa cosa, però cercando tutti di distinguerci. Seguiamo i modelli alla moda per distinguerci dagli altri, non per uniformarci agli altri. Ed è un stranissimo fenomeno. E questo in qualche modo è un altro tratto caratteristico unico della società moderna. riguarda uno degli aspetti di cui avete sentito parlare tantissime varianti, l'aspetto più misterioso della società moderna, che è la questione dell'individualità. Tutti noi, in quanto individui, vorremmo realizzare la nostra originalità. Ciò che ci rende unici, particolari, diversi dagli altri. E vorremmo anche che gli altri li conoscessero. Noi vorremmo autorealizzarci, realizzare quella nostra prospettiva sul mondo che è diversa da quella di chiunque altro. E vorremmo che gli altri riconoscessero questa prospettiva. Questa situazione è piuttosto difficile. La moda ci aiuta in questo. Nella moda lo facciamo con un dettaglio, una combinazione di colori, una variante delle forme alla moda, che siano allo stesso tempo originali, perché sono le nostre, la nostra variante, diversa da quella di tutti gli altri, ma anche riconoscibili, perché sono alla moda. Ci mettiamo le scarpe che si mettono gli altri, ma di un altro colore o abbinate in un modo differente. Perché la diversità, se ci pensiamo, se noi vogliamo che la nostra originalità venga apprezzata, deve essere anche un po' uguale a quella degli altri. Non possiamo essere semplicemente diversi da tutto. Il nuovo deve essere in qualche modo anche un po' vecchio. Un perfetto originale, una persona del tutto nuovo, originale, diversa da tutti gli altri, non verrebbe capita, non verrebbe riconosciuta. Penso ad esempio a un raccontino di Diderot, il nipote di Rameau, che descrive proprio un originale di questo tipo, una persona diversa, originale, del tutto autonoma, che non segue nessun modello. Non risulta un modello positivo, è un personaggio strampalato, un personaggio imprevedibile, incomprensibile, non viene apprezzato e di certo non viene imitato. Mentre l'originalità, come la vorremmo noi, ha anche questo strano aspetto. Il vero originale positivo è quello che non copia nessuno, ma viene copiato da tutti, viene imitato da tutti, che diventa un modello per gli altri, come il genio nel senso romantico. Ma per essere imitato all'originale deve essere in primo modo riconoscibile dagli altri. La storia è piena di geni incompresi, non è quello che noi vorremmo, insomma. E la moda in qualche modo ci offre la possibilità di essere imitati, essere capiti dagli altri, essere valorizzati, senza dover essere dei geni. Senza dover essere dei geni, perché anche se dei geni hanno condizioni faticose, onerosissime, non è affatto bello essere un genio, insomma. Con la moda possiamo essere dei modelli anche per gli altri, non possiamo illuderci di esserlo, senza bisogno di essere dei geni. La moda è uguale per tutti, ma noi tutti seguendo la moda ci sentiamo in qualche modo diversi e ci orientiamo alla moda per esprimere, per mostrare questa diversità, questi caratteri per cui siano diversi da chiunque altro. E questo appunto è un altro singolarissimo, curioso paradosso della società moderna. La nostra società moderna, che sappiamo, come dice Elias, è la società degli individui. Tutti noi siamo individui. Ciascuno di noi ha una prossima prospettiva sul mondo, aspira, diciamo, all'autorealizzazione, allo sviluppo, alla realizzazione della sua specificità, di ciò che ci vede diverso da tutti gli altri. Per cui ciascuno di noi è diverso, ci tiene moltissimo e vorrebbe esprimere la sua originalità. Una condizione molto profonda da cui nessuno di noi vuole rinunciare. Ci teniamo, vogliamo in qualche modo esprimere la nostra prospettiva unica sul mondo. Dove sta il paradosso? Ne è fatto appunto che ciascuno di noi vuole essere originale e riconosce agli altri la stessa aspirazione. Riconosciamo che anche gli altri vuole essere originali e hanno il diritto di farlo, le vogliono legittimamente essere originali. Ma allora, e qui mi riferisco all'Human, che è stato citato prima, in questo desiderio di originalità ciascuno è uguale a tutti gli altri. Come dice Luma, niente in fondo, se ci pensiamo, è così poco originale come il desiderio di essere originali. Tutti vogliamo essere originali, tutto riconosciamo agli altri, lo vogliono tutti, per cui nell'essere originali siamo in fondo uguali a tutti gli altri. E questo è un bel problema per questa condizione di fondo dell'individualità moderna. Ecco la moda, e qui spieghiamo un po' come funziona, è un efficacissimo strumento che la società ci mette a disposizione per mettere in pratica appunto questa ambizione all'autorealizzazione, questa ambizione a realizzare la nostra individualità. Perché la moda in qualche modo usa e neutralizza tutti questi paradossi che produce, il fatto che siamo originali essendo come gli altri, cambiamo sempre, in questo modo non cambiamo mai. La moda mette in moto tutte queste forme e ci consente di praticare un modo di realizzare l'individualità che funziona nella nostra società. Per questo tra l'altro la moda riguarda ogni oggetto e riguarda ciascuno di noi. La moda funziona proprio perché nessuno, abbiamo detto all'inizio, si può sottrarre alla moda. E tutti lo sappiamo. Cito per l'ultima volta la Bruyere, lui dice, chi rifugia dalla moda è tanto debole quanto chi la segue. Ci vuole tanta debolezza per sfuggire dalla moda che per seguirla. Nessuno in realtà può sfuggire dalla moda, anche se ci sono persone, come sappiamo tutti, che pretendono di disinteressarsi della moda. Tutti conosciamo queste persone che sono ostentatamente non alla moda. Ma se andiamo a vedere per bene, si scopre subito che questa pretesa di non essere alla moda richiede moltissima attenzione, richiede molta fatica, richiede tutto il contrario del disinteresse che dovrebbe starci dietro. Lo dico per esperienza, ma l'avete sperimentato tutti. Provate a regalare un maglione o un capo d'abbigliamento a una di queste persone che non seguono la moda. Potete essere quasi certi che non lo userà. Perché non va bene, non passa nei suoi criteri. Chi non è alla moda non si mette affatto qualsiasi cosa. Non è che non ci bada perché si mette tutto quello che gli passa. Applica dei criteri rigorosissimi per selezionare che cosa si può mettere e che cosa non va bene. E non va bene quasi tutto in realtà. Per non essere alla moda bisogna stare attentissimi, si fa molta fatica, richiede grande cura, grandissima attenzione, moltissima attenzione alla moda anche se ovviamente è negativo. Devo essere molto attento a cosa è di moda per evitarlo. Però devo comunque badarci. Questo è il motivo per cui si diceva appunto che nessuno si può sottrarre al potere di questa dea delle apparenze. In positivo o in negativo, tutti in qualche modo siamo sottoposti al potere della moda. Perché? Perché in fondo tutti ci dobbiamo confrontare con i problemi con l'enigma eterno dell'individualità, del modo di realizzare noi stessi e di vederlo riconosciuto dagli altri. Un'enigma che non è mai conclusa e non è mai risolto. Si potrebbe dire, qui parlo da sociologa, per fortuna, perché il fascino del sociale sta proprio in questa infinita esplorazione di noi stessi e degli altri, di un'individualità che non si esaurisce mai. E noi lo facciamo, questa esplorazione di noi stessi e la nostra individualità, lo facciamo inevitabilmente nel rapporto con gli altri. Questo è un tema di un altro grande sociologo, Irving Hoffman, che tutti voi conoscerete, che ha studiato proprio questi aspetti come noi. Riconosciamo chi siamo nel vedere come siamo osservati negli occhi degli altri. Scopriamo noi stessi vedendo come gli altri ci osservano. E appunto, la moda si inserisce in questo dilemma che rimane sempre aperto nella società moderna. Perché la moda in questo, in fondo, dilemma insolubile ci offre degli strumenti molto efficaci e torniamo a dire molti complessi, come avete visto. Molto più di quanto pensiamo, molto più di quanto ci rendiamo conto. E sono dei strumenti in gran parte paradossali. Perché, ad esempio, la novità? Perché la moda deve essere sempre nuova e deve cambiare sempre? Perché, se ci pensiamo, la moda deve lasciare spazio a tutti l'infinita varietà dei contenuti individuali, a tutta la varietà di ciascuno di noi. Per cui, in fondo, solo un criterio vuoto, come quello della moda, il fatto che la moda non abbia nessun contenuto, può lasciare spazio a questa libertà, a questa indeterminatezza dei contenuti dei singoli. Per questo, ad esempio, una moda comoda è un controsenso. Se si segue la moda perché è comoda, non si segue la moda. Il motivo per cui un anno si mettono le Birkenstock, che sono comodissime, è lo stesso motivo per cui l'anno dopo si mettono in taglia a spillo. È la moda, cioè nessun motivo. Il motivo della moda è solo quello. La moda non può avere un motivo. Anche questo lo diceva Simmel. Per cui solo una moda che cambia di continuo può funzionare in questo groviglio di enigmi. Perché solo questa moda, che si rinnova senza pausa, ci consente di andare avanti in questa ricerca senza scontrarci con il pardosso fondamentale, il pardosso dell'originalità. Del fatto che, in fondo, siamo uguali a tutti gli altri volendo essere diversi. La moda, cambiando di continuo, ci consente di non renderci conto che seguiamo la moda come tutti gli altri per essere diversi da loro. Perché? E questo è l'ultimissimo passaggio. Perché finché la moda è nuova, noi non vediamo che siamo in fondo tutti uguali. La moda è diversa, originale. Le sue forme sono diverse da quelle che conosciamo prima, sono sempre sorprendenti. Per cui non notiamo che in fondo siano tutti uguali. Quando iniziamo a renderci conto dell'uniformità della moda, a vedere che la nostra originalità è uguale all'originalità uguale e parallele di tutti gli altri e che in fondo siano tutti vestiti nello stesso modo, anzi appena un po' prima di questo, la moda è già cambiata. Quando noi cominciamo a renderci conto di questa uniformità, la moda già ci presenta delle nuove novità, una nuova sfida in cui di nuovo possiamo confrontarci con gli altri, con noi stessi e cercare la nostra specifica, unica forma di autorealizzazione. Per questo, per questo incrocio di temporalità, di individualità, di riferimento alla società, la moda è un fenomeno così fondamentale, così complesso e così legato all'essenza della società moderna. La moda in fondo riflette ed alimenta la complessità della società moderna e non a caso è nata solo nella società moderna. Solo nel 600 poteva nascere un fenomeno del genere. Le società precedenti, come dire, non avevano la complessità per reggere questa stranissima costruzione, ma non avevano neanche bisogno, non avevano il problema che noi dobbiamo affrontare con queste forme così improbabili. Oggi il rapporto con il mondo o con le cose che torno a dire sono il nostro tema, si gioca sempre su più dimensioni, appunto queste dimensioni che abbiamo visto che si intrecciano, si condizionano l'una con l'altra. Un mondo appunto che cambia di continuo e in cui non siamo mai soli, ma un mondo che non può mai essere raggiunto, non può mai neanche essere conosciuto in un modo definitivo. È proprio per questo, perché cambia sempre, perché si articola sempre, perché è un mondo condiviso con gli altri che non possiamo conoscere, è un mondo, a mio parere, infinitamente affascinante. Sempre, sempre appunto un orizzonte aperto di esplorazione, come diceva Husserl, ma probabilmente sempre nella forma di un paradosso. E qui torniamo al nostro tema, le cose della moda. Le cose della moda sono in fondo le cose di un mondo che è sempre da scoprire, insieme agli altri, perché la moda non siamo mai da soli, ma anche sempre diversi da loro, perché ciascuno di noi nel seguire la moda segue in fondo, ricerca in fondo sempre se stesso. Grazie. 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 Grazie.